Bentornati a Dimmi Quando, questo è il momento dell'intervallo e come sempre iniziamo la settimana regalandovi un intervallo redazionale legato ad un colore. Oggi abbiamo scelto il verde, il verde delle speranze, il verde delle nostre tasche anche un po', ma chi di verde si veste di sua beltà si fida, qualcuno disse, e quindi godiamoci questo intervallo tutto green. Grazie a tutti. Ah, che meraviglia! Mandateci le vostre foto con il verde e domani l'intervallo sarà tutto fatto da voi. Ora però restate con noi, ci guardiamo tutti insieme fuori frigo, Dimmi quando torna subito dopo con l'intervista e noi come sempre vi auguriamo buona televisione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.